Ciao a tutti, mi chiamo Giada Genua e sono siciliana, ma adesso vivo e lavoro a Nîmes, nel sud della Francia. Sono una restauratrice di libri antichi. Nel 2018 ho svolto il Servizio Civile Nazionale presso l'INAF Osservatorio Astronomico di Palermo, ed è stato in quell'occasione che ho avuto l'opportunità di sviluppare un progetto dedicato alle donne nella scienza, insieme ai miei colleghi volontari di servizio civile e ad alcuni dipendenti dell'INAF. Infatti, in occasione della giornata internazionale della donna nella scienza, abbiamo realizzato dei poster e delle cartoline per raccontare la vita di tre grandi scienziate con percorsi scientifici differenti. Abbiamo scelto Jocelyn Bell-Barnel, Gertrude Elion e Rosalind Franklin. Quello che mi ha colpito di più del progetto, innanzitutto, è stata la vita di queste scienziate, ma soprattutto l'impatto che hanno avuto queste vite sulle persone alle quali abbiamo deciso di raccontarle. Infatti, il nostro progetto è stato presentato in occasione di numerosi eventi dedicati principalmente ai giovani, quindi agli studenti, ai bambini, ai ragazzi, ed è stato bello vedere con quanta curiosità e con quanto interesse si sono approcciati all'argomento, non soltanto alle vite delle scienziate che abbiamo scelto per il progetto, nello specifico, ma in generale alla tematica del divario di genere nella scienza. Infatti, grazie a questo progetto abbiamo avuto l'occasione di creare momenti di dialogo, di riflessione e di confronto che sono fondamentali per avere consapevolezza del problema e per cercare tutti insieme di superarlo.